Il direttore ACI Genova, dottor Ferriello, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. E grazie per essere con noi. Allora, intanto la conosciamo e abbiamo dedicato con un importante impegno il primo canale production, questo fine settimana, al motore. Abbiamo visto che significa anche per gli appassionati una tappa straordinaria, 38esima edizione rally della Lanterna, ma anche un modo per scoprire i luoghi, le bellezze dell'entroterra toccati dal passaggio delle macchine. Certo, assolutamente. La manifestazione, appunto questo rally, è sicuramente una manifestazione che porta tanto divertimento, intrattenimento, chiaramente in una cornice anche molto bella, che è quella comunque di Santo Stefano. E' una manifestazione ormai giunta alla 38esima edizione, la festa a Santo Stefano Davido, e per l'ACI, per noi, insomma, l'Automobile Club di Genova è una competizione di punta, è sicuramente che è un po' una simboleggia, insomma, quello che è il movimento motoristico a Genova, un movimento molto attivo, tra slalom, naturalmente cronoscalate e appunto rally. Quindi siamo molto contenti, tra l'altro, della partecipazione, ringrazio l'organizzatore, appunto il Lanternarelli e Marco Gallo, in particolar modo, perché hanno fatto un lavoro splendido, con le difficoltà che da qualche anno purtroppo ci accompagnano, ma il numero di iscritti, di equipaggi iscritti, che è arrivato a 104 quest'anno, insomma, sta a significare che il lavoro viene fatto bene e c'è attenzione e passione. Ecco, non ce ne vogliano le altre regioni, ma la Liguria, con la sua orografia, con le sue strade, si presta, cioè ogni strada, credo, si possa prestare, Presidente, alla corsa del rally, insomma, perché basta abbandonare le strade sul litorale, ma come Tinerpi, che insomma ogni tragitto può essere buono per un circuito da rally. Assolutamente sì, tra l'altro il tracciato che è stato appunto individuato quest'anno si è modificato rispetto agli altri anni, è reso più selettivo, competitivo, si svolgerà, come sappiamo, su tre prove speciali, la prima Montepenna, di circa 13 km, la più lunga, poi ci sarà la seconda del Due Valli, di domani, si svolgerà domani, e la terza è relativa al Monte Bruno, che è di circa 11 km. Tracciati, dicevo, piuttosto selettivi, in un contesto naturalistico anche molto accattivante, però il tracciato è complesso, quindi già adesso appunto è in corso, lo è shakedown, quindi questa prova ante competizione, che però è molto importante per i piloti, proprio per testare le vetture appena prima. Su questo, sull'individuazione dei tracciati, sicuramente Gallo ha fatto un ottimo lavoro. Ecco, sono importanti anche tutte le manifestazioni, poi a corollario del rally direttore, noi abbiamo visto tanto entusiasmo, per esempio, intorno alle auto storiche, con l'esposizione delle auto prese letteralmente d'assalto, da tanti appassionati. Qual è il significato del motore, dell'automobile nel nostro paese? Allora, questa è una domanda complessa, tra l'altro anche perché siamo in una fase di assoluta transizione del motorismo, direi addirittura in generale, del tipo di alimentazione delle vetture, come sappiamo siamo in una fase di transizione all'ecologico, quindi delicata, difficile da molti punti di vista. quello che ci deve aiutare a pensare che comunque la direzione sia quella giusta è che comunque in ogni caso molte l'interesse da parte delle case produttrici, case costruttrici, da parte di tutti noi soggetti addetti ai lavori, diciamo così, oltre naturalmente del Ministero dei Trasporti, insomma tutti i soggetti pubblici stanno spingendo verso questa transizione ecologica. Dunque, per quanto riguarda il nostro parco veicolare che ammonta ormai tra i 30 e i 40 milioni di veicoli in Italia, siamo in una fase veramente epocale di trasformazione e di transizione. Le auto d'epoca, le citava le auto d'epoca, sono un po' un aspetto, diciamo, di nicchia che sta crescendo tra l'altro però moltissimo, proprio perché è accompagnato da una grande passione. E in Italia, devo dire, in Liguria sicuramente abbiamo delle manifestazioni particolarmente importanti, ma in tutta Italia il motorismo è molto sentito. Non a caso siamo, diciamo, l'Italia è l'unico paese nel mondo che ha due gran premi di Formula 1, grazie direi anche all'impegno sia del governo ma anche dell'Asci che ci ha messo in giro. Beh, io che ho già una certa età, caro direttore, ricordo con nostalgia gli anni in cui c'erano dei veri e propri derby, no? Tra chi era, chi correva con la Fiat, chi con l'Alfa Romeo, oppure con la Fiat e la Lancia. Insomma, ricordiamo quello con tanta nostalgia. Ma parliamo dell'altro ieri, insomma, parliamo degli anni 60 e 70. Anche questo crea il fascino dei loghi, il fascino dei marchi e il fascino del motorismo italiano. Sì, davvero, su questo Asci punta molto, nel senso che lo sport è un po' nel nostro DNA, ma sappiamo che lì abbiamo un terreno fertile, come dicevamo, l'intero paese ha una grande passione per le automobili, per lo sport automobilistico. Sulle auto d'epoca e sul miglioramento della mobilità in generale, entriamo in un altro settore, naturalmente. Su questo noi dobbiamo però ancora fare della strada, probabilmente. Non c'è dubbio che anche lo sport in questo senso ci aiuta perché dicevamo, è un aspetto ludico di intrattenimento, ma in realtà è anche quello che consente alla tecnologia di fare grandi passi in avanti. Infatti molti degli aspetti elaborati, dei profili elaborati sul piano tecnologico, appunto nell'ambito della Formula 1 o comunque delle competizioni sportive, hanno consentito poi anche di utilizzare dei sistemi nella mobilità generale. Quindi abbiamo un campo sul cui lavorare ed è, insomma, è anche entusiasmante, io credo, vivere questa fase di transizione. Assolutamente. Direttore, la ringrazio per questo arricchimento di questa nostra mattinata motoristica. Buone cose a lei, naturalmente, e all'ACI Genova. Mi lasci fare l'imbocca al lupo, naturalmente, per queste due giorni naturalmente all'organizzatore, tanto il presidente Bagnasco, quanto io dell'ACI e quanto lo stesso Maurizio Rossi, che è un padrono di Primo Canale, ma anche presidente della commissione sportiva di ACI, ci teniamo particolarmente, diamo l'imbocca al lupo, in questo caso faccio io da portavoce, l'imbocca al lupo a tutti i piloti e gli equipaggi che si sono iscritti, quindi, come sempre, vinca il migliore. E allora, eccolo il nostro editore, vedete, state condividendo, è proprio lui, state condividendo il teleschermo, concentratissimo, lui è nella storia del motore dei rally da, insomma, da ragazzo e concentratissimo, pronto per una prova e quindi anche bene così e bene allo sport motoristico. Grazie, direttore Ferriello, grazie. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci e a risentirci. E avete visto il nostro Maurizio Rossi, Maurizio Rossi pronto per partire con il mezzo di Primo Canale Production ed eccoli qua, vedete, Primo Canale Motori, Rossi Zanini, Rossi Zanini. Allora,